Più di 2.000 studenti che hanno potuto, in base a questo progetto, acquisire una competenza linguistica bilingue ben maggiore rispetto agli studenti delle altre scuole. Quindi abbiamo tutta l'intenzione di continuare questo progetto e questo modello ed estenderlo ad altre scuole della nostra città, della nostra regione, ma soprattutto continuare nella scuola media. Questa è la dimostrazione che un insegnamento bilingue è il futuro del nostro sistema scolastico. Il valore aggiunto portato dal British Council è sicuramente una garanzia di continuità, una garanzia di qualità, una capacità di fornire il meglio in ambito di offerta metodologica e soprattutto di risorse umane a disposizione. È la tutta cultura della scuola, è la cultura e le dimensioni interculture del progetto che sono molto importanti e credo che rendono un cambiamento molto successivo e l'esperienza non solo per i professori ma anche per i bambini. Il punto forte del programma è praticamente di dare la possibilità ai ragazzi fin dai primi momenti dell'accesso alla scuola primaria di avere appunto l'opportunità di utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare, cioè come una lingua mediante la quale, utilizzando la quale, imparano determinate materie che nella nostra fattispecie sono la geografia e le scienze. Mi piace per me lavorare sul progetto è stato andare in le scuole e sono stati fortunati di seguire i professori coinvolgendo il progetto e i bambini durante i ultimi tre o quattro anni, quindi andare in la scuola e osservare le lecce con i professori e il progetto dei bambini e il progetto dei bambini e poi provare feedback ai professori sulle performance in la scuola. Alice ha la caratteristica di switchare il suo cervello in automatico quando si trova di fronte comunque allo straniero o comunque a qualcuno che si rivolge ad Alice in inglese. I believe that my students will be more competent. Leaving apart the contents, I think that the bilingual students are really skilled in changing very quickly their thoughts so that they can think in Italian and also in English and they can also be very fast in the code switching so I think these are very high competences. We have the possibility to change our way of teaching and also our way of being. There's no formal observations in the Italian state school systems and the fact that they are informal observation and the attitude of the observer is to rather than judge she gives feedback after the lesson and some suggestions what went well, what we can improve and practical ideas to improve the teaching in the classroom. So meta-cognitive skills are developed, I think you have. Both from the teacher's point of view, as I was saying, and from the student's point of view. To us, the excellent results from the point of view of language competence had no negative counterpart in disciplinary skills. The kids in the focus groups we used actually showed excellent awareness of the activities done and the abilities acquired and the kind of things they could do with the language in the different disciplines. I think we get passionate for all the right reasons that it really is something that the British Council stands for. It's about multiculturalism, it's about multilingualism, as much as it is about learning English. It really does change lives. It's about